Quando vi siete accorti che vostro figlio era celiaco? Alessandro aveva un anno e mezzo quando ha avuto un episodio di vomito. Questo subito dopo una festina con altri bambini. Inizialmente abbiamo pensato dipendesse dal fatto che aveva mangiato forse troppo. Poi nei giorni successivi ha avuto altri episodi non legati all'alimentazione particolare e abbiamo pensato si trattasse di problemi intestinali o di agitazione, stati emotivi. Quando dopo tre settimane circa ha iniziato anche a vomitare durante la notte abbiamo capito che c'era evidentemente un problema più importante che abbiamo dovuto quindi iniziare ad indagare per capire di che cosa si trattasse. Quali sono i possibili sintomi della celiachia in generale? La celiachia dà sintomi molto variabili, in alcuni casi sintomi gastrointestinali che sono i più frequenti, quindi diarrea o vomito, però esistono molti altri sintomi come ad esempio una forma di anemia oppure forme di dermatite non diagnosticabili in altra maniera che fanno opporre diagnosi di celiachia. Alessandro ha avuto altri problemi? E se sì, quali? Alessandro a causa dei primi sintomi della celiachia aveva il problema della scarsa crescita, quindi alla sua età, a un anno e mezzo, era al di sotto della media del peso per l'età. Una volta instaurata la terapia dietetica non ha più avuto nessun problema di salute, ha recuperato completamente il peso e adesso è un ragazzo sano. Esiste una cura per la celiachia o si può solo attuare la prevenzione? La cura è la prevenzione, cioè evitare di assumere alimenti contenenti il glutine, quindi derivati cereali e derivati dei cereali come grano, orzo, avena. Quindi è possibile evitando di assumere questi alimenti sostituendoli con altri privi di glutine, è possibile avere una vita normale senza nessun problema, senza nessuna complicazione. Dal punto di vista psicologico, come è stata vissuta la malattia? Abbiamo avuto la fortuna di aver riscontrato la malattia quando Alessandro era ancora molto piccolo, quindi fin da sempre è stato abituato a seguire un'alimentazione priva di glutine e senza nessun problema e abbiamo cercato di fornirgli tutti i prodotti alimentari privi di glutine, in modo che potesse seguire una dieta simile alla nostra senza dover rinunciare per quanto possibile a nessun tipo di alimento, dai dolci alla pasta al pane a tutti i prodotti senza glutine che gli hanno consentito di alimentarsi in maniera uguale a tutti noi. Quindi il bambino l'ha vissuta sempre bene questa situazione? Sì, non ha mai lamentato problemi, certamente con l'andare dell'età comincia ad avere anche la necessità di mangiare all'esterno e quindi con gli amici e questo può portare un po' a tentare con l'adolescenza di adeguarsi all'alimentazione degli amici e questo potrebbe in futuro fargli provare ad assumere alimenti con glutine e speriamo non lo faccia perché potrebbe avere delle conseguenze. Quanto conta la componente ereditaria nella celiachia? Nella celiachia non esiste una trasmissione ereditaria classica di carattere mendeliano, esiste però una predisposizione ereditaria geneticamente determinata che può portare a sviluppare questa patologia. Quindi il figlio di un celiaco non sarà per forza celiaco, ma ci sono altre probabilità che lo diventi? No, un figlio di un celiaco non sarà celiaco, però è predisposto a sviluppare questa malattia. Il fatto di avere un familiare celiaco deve indurre a fare molta attenzione ai sintomi, a volte sfumati, della malattia per poter indagare e scoprire al più presto la presenza della celiachia per poter poi intervenire con la terapia senza glutine.